Questa cosa di scegliere gli ubbidietti, uno come me ha cambiato lo statuto per far partecipare Renzi che mi dava derrotamatore, quindi io lì ho la prova del 9. È vero questo. Il ricordo ce l'abbiamo tutti di cos'erano i partiti una volta nei tempi della prima repubblica. Sono stati bypassati quei meccanismi che costringevano la partecipazione a una selezione efficace, sono stati bypassati da dei meccanismi di comunicazione che hanno sostanzialmente prevalso su tutto. Cioè va avanti chi comunica bene, chi piace. Sì, chi piace, a quel punto quello che piace, che è il piacione, sente la responsabilità di vedere e quindi si mette attorno anche degli yes men. L'ultimo piacione, come dice lei, che ebbe un grande successo, è passato, è stato segretario, ha perso il referendum e ha creato un partito suo e ora si fa sentire parecchio? Ma si fa sentire parecchio? Io non credo che il Paese lo senta parecchio. Lo sente il sistema politico, dell'informazione. Grazie. Grazie.